sai cosa la devi buttare fuori tanto il culo perché effettivamente è stretta non si fai dai Grazie a tutti. Grazie. Un continuo recupero però l'è fatta. Ecco perché, infatti l'ho fatta giusta fino adesso, adesso c'è il gufo e faccio piena. E' arrivato il gufo e mi sono bloccato. Mi piace con il passaggio di quel tronco in curva. A zero eh Michele? Cerca di tenerla perché ti scappa via tanto. Continua il suo di qui dal passaggio. Guardando qui... Oh, c'è stato dentro però eh? C'è stato dentro. Sì, sì. Prendeciarti in mezzo. Sì. Vai spanti. Sì. Ah, no. Vado a lanciarla subito. Mi stavo portando un'altra. Mi ha messo in mezzo di San Bernardino con tutti i coglioni che era da fare lì. Sì. Sì. Sempre montesa? Sì. Sì. E dove vai? Ehi! 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 Che deviazione! Mutande? Con quei zambini, ma che scivoli! Sono unte! Sgommate! Ma guarda male quest'altro lì. Prima sei partito che non mi sei chiesto. Prima sei partito che non mi sei chiesto. Prima sei partito che non mi sei chiesto. E' il gufo! E' il gufo! E' il gufo! Ma guarda me è gufo! Oh, c'è qualcosa lì che ti gufa! Ti deconcentra! Ti riconcentra, non riesci, non riesci. Il buco è pericoloso. Perché incomincia? Tento, uno, che bello. Devi aspettare che metti i piedi. Sì. Comincia a volare. Comincia a volare. Comincia a volare. E' come se gli scappa via. 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 E' come se gli scappa via.